Come rubare una moto Ci stiamo avvicinando al periodo natalizio Se anche voi non sapete cosa regalare ai vostri amici o ai vostri parenti Rubategli una moto Rubare una moto è esattamente come averne una Solamente che non è tua Se anche voi ne desiderate una, seguite il nostro tutorial Innanzitutto avvistate una moto Ricordate che più sembrerà costosa, più voi sembrerete dei gran figli Controllate che non sia bloccata Se non ci sono cateno lucchetti, sarà un gioco da ragazzi Nel caso ci fossero, beh, usate la fantasia Accendetela Non avere le chiavi è un grosso problema Quindi andate a comprare un paio, andremo sicuramente bene A questo punto vi resta che corri Una volta che siete al sicuro Riparatevi in un ostello per qualche giorno dopo di che uscite Cambiate il cuore della moto Nel caso ci fosse un nome, lo cambiate Chiaramente non il nome sulla moto, ma il vostro di nome Metteteci tutti gli adesivi che potete mettere, che volete mettere E alla fine divertitevi con la vostra moto Mi sembra Quando è che finisce sto schifo? Mi sembra Grazie a tutti